E' un grande onore innanzitutto quello di entrare a far parte di un'istituzione verso la quale io nutro un rispetto quasi sacrale insomma e poi un grande onore perché farò parte di una squadra, quella della giunta del Comune di Napoli di altissimo livello, degli assessori straordinari che in questi anni hanno fatto un lavoro eccellente, con grande spirito di sacrificio e quindi per me far parte di questa squadra. E' un onore nell'onore e ancora di più sono onorato per le parole del sindaco, per la sua fiducia che spero di ricambiare e per i sacrifici che si stanno facendo per questa città perché sappiamo che i cittadini di Napoli e la città di Napoli meritano tanto e meritano tutta la nostra passione che stiamo mettendo a cercare poco alla volta di risolvere i tanti problemi. La strada che abbiamo davanti è quella di continuare e migliorare sempre di più le cose che stiamo facendo, raccontare i sacrifici che abbiamo fatto, raccontare gli impegni di questa amministrazione nel modo da riuscire tutti insieme in quello che io chiamo la cogenerazione dei servizi per il bene della città.